Un evento storico per la nostra città, per la prima volta in Serie A il Giro del Bici Soccer, una grande realtà e un onore per la nostra città avere delle società che riescono all'interno dei propri club a riuscire a ottenere risultati così importanti e così prestigiosi. Finalmente esordiremo in Serie A, sei anni che aspettavamo questo traguardo, ora ci siamo riusciti, sarà difficile, comunque il Bici Soccer a livello nazionale è arrivato a un livello talmente alto che sarà dura confrontarci con altre realtà, però diciamo che siamo pronti, siamo già allenati da tempo quindi non vediamo non riscendere in campo. Quest'anno siamo riusciti a portare una squadra nella massima Serie A, tra l'altro credo che questi ragazzi veramente se lo meritano perché hanno un entusiasmo, io li seguo da anni e ci sentiamo continuamente veramente grande, per loro è un merito, io spero che dalle parole dell'assessore c'è la volontà anche di trovare una Bici Arena qui a Genova e quindi speriamo di riuscire a portare una tappa del tour nazionale qui a Genova, vedrete che è veramente uno spettacolo, è una cosa veramente bella e farebbe onore a questa regione. Con la federazione stiamo cercando proprio di dare vita a un primo campo regolamentare per permettere insomma a questa disciplina di potersi esprimere al meglio, stiamo lavorando affinché le discipline sportive importanti come il Bici Social possa crescere e radicarsi sempre di più nella nostra Genova. Diciamo che l'obiettivo salvezza è la portata, poi ovviamente la sabbia è imprevedibile quindi può succedere di tutto, chissà che possiamo essere la sorpresa del campionato oppure magari raggiungere una salvezza tranquilla.